Mr. Lucchini, domani esordi in campionato contro il Brescia, come ci prepariamo a questa partita? È un test difficile, abbiamo lavorato bene durante la settimana, cercheremo di dire la nostra e fare la nostra partita cercando di dare il massimo e sperando di portare a casa un risultato importante. Sarà una partita difficile, quindi che tipo di match ti aspetti? Mi aspetto un match intenso, è un derby, tanti ragazzi sono della zona e quindi sentiranno un po' di tensione per questa partita. Loro sono un'ottima squadra, in questi ultimi anni hanno sempre raggiunto i play-off, quindi il loro obiettivo probabilmente è quello. Noi dobbiamo consolidare la categoria e quindi mi aspetto un match intenso con grande volontà da parte dei miei di cercare di portare a casa punti. Il tuo in bocca al lupo per i tuoi ragazzi? Faccio un grosso in bocca al lupo perché è un in bocca al lupo soprattutto per quanto riguarda la crescita. Dobbiamo arrivare alla fine dell'anno e aver lavorato per portare giocatori che possano l'anno prossimo partire con la prima squadra e magari essere protagonisti in futuro per la Feral Pissalò.